Un Halloween a retino all'insegna dell'alcol in Valdarno, minorenni intossicati, è stata disposta alla chiusura per un mese di un noto locale valdarnese. I carabinieri di Leva nello scorso primo novembre avevano ricevuto le lamentere di alcuni genitori di teenager sconvolti e sgomenti che si erano rivolti ai militari lamentando come i loro figli la notte di Halloween avessero accusato forti malori, a seguito dei quali erano stati costretti a far ricorso alle cure dei medici dopo l'assunzione di alcol miscelato a sostanze energizzanti all'interno di un locale del Valdarno a retino. Nei primi accertamenti dei carabinieri sono state acquisite le documentazioni sanitarie sugli ingressi quella notte al pronto soccorso del Valdarno di persone minorenni in stato di alterazione psicofisica dovuta all'assunzione di alcol, nonché dai contatti presi con il 118 sugli interventi effettuati. Era emerso che due sedicenni residenti in Valdarno erano stati ricoverati in codice rosso e in codice giallo per intossicazione acuta da alcol. Sono state per accolte le testimonianze oculari sia delle vittime dei malori che di altri coetani che hanno raccontato di aver ingerito sostanze superalcoliche come vodka bianca miscelata, bevande eccitanti ed analcoliche. I ragazzi che avevano accusato il malore erano entrati nel locale facendo parte di due diverse comitive. I minorenni sono stati convocati in caserma alla presenza dei genitori, dei camerieri, del cassiere e degli inserventi anziché preoccuparsi di chiedere un documento di riconoscimento da cui accertare la loro vera identità, che sarebbe stato doveroso verificare, sorgendo forti dubbi sulla loro maggiorità senza alcuna richiesta da parte di chi che sia, la bevuta era compresa nella somma di denaro corrisposta all'ingresso, hanno potuto disporre sia bevande analcoliche sia bottiglie di vodka bianca che avevano lasciato sui tavoli alla portata di tutti. L'amministratore unico della società che gestisce il locale è stato denunciato per la violazione prevista dall'articolo 689 del codice penale per aver consentito ai propri dipendenti addetti alla somministrazione di alimenti e bevande all'interno del locale l'accessione di sostanze superalcoliche a minori di 16 anni, causandone l'ubriachezza. Il sindaco ha emesso l'ordinanza di sospensione delle licenze per 30 giorni con decorrenza immediata.